Promesse, promesse legate a fondi o rimesse in arrivo la prossima settimana. Null'altro ha potuto stamane il subcommissario Auricchio di fronte alle rivendicazioni di operatori ex-ecotim e multiservizi. C'erano di nuovo sia gli uni che gli altri questa mattina a Palazzo di Città. La loro situazione ha di gran lunga superato ogni possibile confine dell'umana sopportazione. Ieri pomeriggio hanno atteso in vano di essere ricevuti, come promesso dal commissario straordinario Piero Mattei, da qui la decisione di presentare le loro rimostranze stamane presidiando i corridoi. I lavoratori della multiservizi. Per loro arriva un nuovo stop. Questa volta, tutt'altro che simbolico e dimostrativo, l'anno c'era multiservizi infatti e da lunedì si ferma. Lo annuncia una nota diramata dalla segreteria provinciale della Filte CGL. A distanza di una settimana, scrive il sindacato, dal blocco spontaneo delle attività, gli operatori della partecipata, che vantano diverse mensilità retrate, non hanno ottenuto alcuna risposta. Gli impegni del commissario e quelli della politica pre-elezioni sono state ancora una volta disattesi. Il senso di responsabilità ha chiesto ai lavoratori per rassenerare l'avvertenza con la promessa di erogare parte delle spettanze non è servito a nulla. Anzi, agli occhi di molti di essi, è stato il colpo finale a quel progetto che l'amministrazione precedente aveva messo in campo legando al governo della mobilità cittadina un futuro stabile e dignitoso per 45 famiglie. Il sindacato lo dice senza tema di smentita. L'anno c'era multiservizi non è il solito carrozzone che solitamente si immagina quando si parla di questa società. Basti pensare che sarebbe ampiamente attivo se il comune saldasse il debito che ha nei suoi confronti. Invece lavoraggine finanziaria si allarga sempre di più e non consente neanche la più piccola gestione quotidiana con il serio rischio di scioghimento societario. Ho parlato con Auricchio che ci ha detto che ci dovrebbe essere un elemento di novità. Forse settimana prossima arriveranno dei soldi da parte della Gori che dovrebbe dare al comune e quindi loro cercheranno di onorare le spettanze che hanno nei nostri confronti. Però questo è quello che ci è stato detto. Ma veramente queste cose vengono dette da alcuni mesi. La settimana prossima. Vengono dette anche ad altri perché ci dicevano anche gli amici dell'Expulian e dell'Eco Team che la stessa cosa è stata detta loro. Sì, 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 sì. La canzone è sempre la stessa. Riavvolgono il nastro per farla sentire ad altri ascoltatori. Però noi abbiamo deciso lunedì di fermarci, di programmare una giornata di sciopero a partire da lunedì. Quindi non è solo lunedì. Perché noi vogliamo ancora credere alla buona fede che sia vero che la settimana prossima c'è questa disponibilità. Però fino a quando non c'è un atto concreto che vediamo l'impegno, ma l'impegno non a chiacchiere. Cioè che ci sono i soldi, che arrivano soldi in banca, che c'è il pagamento degli stipendi gennaio, febbraio e tra settimana marzo. Allora revoqueremo lo sciopero. Sennò altrimenti noi da lunedì inizieremo la nostra protesta. E già da oggi iniziamo a scusarci con i cittadini per l'eventuale disagio che creiamo alla città. Noi non crediamo a niente perché siamo da qui oltre 15 giorni. Che veniamo saltuariamente di martedì, di mercoledì, di giovedì. E alla fine è come un dischetto che tu metti nel computer o nelle DVD e dici sempre la stessa favoletta. Ci auguriamo che ci possano far fare almeno la Domenica delle Pamme, la Santa Pasqua, che prossimo ne arrivo in Santa Pace. L'unica cosa che posso dire è che questo comune sulle spalle è un'azienda che ci ha tutelato sotto tutti gli aspetti. E da otto mesi che ha prestato servizio al Tribunale ci ha sempre pagato precisamente ogni 15 del mese. E puntualmente questa azienda rischia di chiudere, di fallire, perché la cifra è circa 245 mila euro che deve percepire. Ad oggi non ha percepito alcuna lira, ci ha sempre pagato. È la prima volta che ci troviamo in questa situazione che non ci può pagare. Sicuramente non ci possiamo mettere contro l'azienda. Siamo allo suo fianco per cercare in tutti i modi di fargli riscuotere almeno qualche cosa per poterci fare poi da Santa Pasqua in Santa Pace. Grazie. Grazie.